Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi sono qui sempre in una postazione un pochino diversa perché sto facendo un video che ho visto sul canale di Ludo Dreamer, cioè in poche parole il test per vedere qual è il mio genitore divino di Percy Jackson. Quindi senza ulteriori indugi io direi di iniziare con il test che appunto è presente nel link della descrizione del canale di Ludo Dreamer, vi lascio il suo video nelle schede perché è molto divertente e è appunto il sito ufficiale quindi dove c'è appunto il test del citore divino. Vediamo subito, ok? La prima domanda è quale di questi è il tuo colore preferito? C'è blu, verde, dorato, rosa, argento e nero. Non dovrei neanche pensarci più di tanto perché il mio cuore preferito è l'arancione che qui non c'è quindi altrimenti il nero. E risponderò sinceramente. Quali dei seguenti posti preferisci? Qui io non imbroglio, lo so, perché Ludovica ha detto, ah non puoi imbrogliare, quindi ci fanno storie, adesso mi riferisco. Cioè il centro commerciale, la spiaggia, la foresta, le alivieria, il cimitero o una piazza da concerti insomma. E Ludovica ha detto, ah ma qui non puoi mettere cimitero giusto per, ma io adoro i cimiteri. Quando ero una ragazza, neanche ragazzina perché avevo già 17 anni, io e la mia migliore amica passavamo i pomeriggi interi al cimitero a passeggiare tra le tombe, cercavamo le tombe più antiche, andavamo a vedere le cripte perché è un cimitero molto molto vecchio il nostro. Quindi tra questi il mio posto preferito è il cimitero se devo passare un pomeriggio, perché in libreria non ci sono librerie qui da me, quindi biblioteche, no, library nel senso biblioteca e quindi lo chiamo cimitero. E sono onesta! Quali di questi cibi è il tuo preferito? Sushi, shish kebab, che sono gli stili, gli s'mores, rice cake, le costruette di zaza barbecue o il tonno, il sushi, assolutamente, altro il sushi, andiamo avanti. Quali di questi è il tuo passatempo preferito? Quindi, harcery, come si chiama, il tiro con l'arco, cantare al karaoke, no, sono strana con una campana, esplorare una caverna, costruire con i Lego, shopping o andare a cavallo? Shopping tra queste perché non sono capace a fare nientanto. Quali di questi è il tuo animale preferito? Chihuahua, delfino, rottweiler, elefante, gufo o cervo? Tra questi rottweiler. Quale genere musicale preferisci? New Age, classico, pop, show tunes, che non so che cos'è, The Grateful Dead, che non so che cos'è, Cool Jets. Tra questi metterei il copo perché non conosco gli altri. Wow! Quale di queste app useresti di più? Zombie Run, che adoravo! City Planner, Hurricane Tracker, quindi uno per vedere se arrivano gli ureccani love match, voice recorder e wildlife calls. Penso Zombie Run perché lo dico che ho solo di questi. Qual è la tua fatal flow, quindi il tuo difetto? I can't be moody, posso essere lunatico? Sì. Posso essere arrogante, valitoso, troppo orgoglioso, egoista o ho la tendenza a non fidarmi delle persone? Donatico. Qual è la tua migliore qualità? Vedremo. Sono un lavoratore indipendente, sono creativo, sono un stratega, sono brava alle cose al computer, a networking, sono un amico leale e sono un natural leader. Sono un lavoratore indipendente, c'è un altro lavoro da sola. Your godly parents is Hades! Quindi il mio genitore divino è Ade, io sapevo già di essere mia di Ade, quindi perché questa è... non ce la posso fare. Giuro di non aver risposto a niente con cose false, sono veramente le mie cose preferite. Sono benissimo che sia uscito Hades e il messaggio uscito è buon lavoro! In base alle tue risposte sei stato claim, sei stato reclamato da Ade. Procedi e fai come se fossi a casa tua alla cabina numero 13. Allegati bene, non dimenticarti di lavarti i denti qualche volta e non farti mandare in una missione perché tendono a rendere più corta la tua vita. E il tuo direttore, Chirone. Oh mio dio, sono troppo felice! Ragazzi, troppo bello che mi è uscito è Hades e c'è anche il piccolo, il piccolo mo adesso, il gigante cane. Infatti io non ci penso che il rottweiler deve essere visto come una cosa di... di... Ade, però è veramente buon time, un piccolo di pane che mi piace tantissimo. E si ragazzi, questo è tutto per il video di oggi! Questo era il mio sorteggio tra i genitori divini. Insomma, non è un sorting, però vabbè, ci siamo, abbiamo capito. E niente, se non so se l'avete rotato, ma ho messo anche la mia unica maglia arancione nell'armadio fingendo fosse una maglia del campo mezzosangue, quando in realtà no, perché I'm a broad bitch, quindi non ho la maglia del campo mezzosangue, anche se dovrei assolutamente con me. E si ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda il mio video sul genitore divino di Percy Jackson. Fatemi sapere qui giù nei commenti se anche voi avete fatto il test e quale genitore divino vi è uscito. Se era qualcuno che già sospettavate oppure se vi ha accolto di sorpresa come nel caso di Ludovica. E si, niente ragazzi, questo è tutto per i video di oggi e noi ci vediamo al video di domani. Ciao ragazzi!